ANSA, Roma, 7 luglio ha superato quota 110.000 in Colombia il numero dei morti per Covid-19 dall'inizio della pandemia, secondo i dati dell'Università Americana Johns Hopkins. I contagi totali nel paese sudamericano da 50 milioni di abitanti sono stati finora 4,4 milioni. Le dosi di vaccino somministrate sono state invece 19,4 milioni. Il presidente americano Joe Biden ha annunciato la scorsa settimana una donazione alla Colombia di 2,5 milioni di vaccini dell'azienda farmaceutica Janssen. ANSA 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 Grazie a tutti.